Musica Ok guys, eccoci ritornati in un nuovo episodio di Dragon Ball Z Budokai 2 Allora, la squadra non è che sia bellissima con la presenza di Tenzing Kaioshin anche, era vero, me l'ho dimenticato di lui Vabbè, iniziamo ad avanzare con Goku, prendiamoci questo potenziatore dell'attacco ragazzi Mi raccomando, tanti bei like e massimo supporto sempre Più 20%, ahia ragazzi, ora si Aspettate che rimuovo, mi sa che ancora non gli ho metto, ecco l'acqua gliele La devi rimuovere Non sono stata segnata, perché non posso E la metà Aspettate, forse non sono state assegnate, cosa vuoi? E non Ah, maledizione, ci vuole il Super Sabia Yan E gli metto la forza di difesa almeno ragazzi, così almeno un po' di difesa ce l'ha E con Gon andiamo avanti, ci prendiamo quest'Abilities Vediamo cos'è, con Kaioshin andiamo a prendere il radar del Drago ragazzi Jack, che cosa me ne frega? Perché non posso muovere Coso? Ah ecco, devo muovere Kaioshin, vai Kaioshin, prendi il radar e facci trovare le sfere subito Così, evochiamo Sharon O Polunga, non lo so chi Ecco, ce n'è una Ecco Allora, iniziamo a far avanzare Tensing Beh, mandiamolo da Mr. Popo, così magari si avvicina anche alle sfere Tipo, ce ne sono tre ragazzi, eh Ne abbiamo quattro, quindi se abbiamo fortuna ne prendiamo tutte e tre Ma manco, ecco Junior è vicinissimo Junior Tensing, scusatemi Cazzo, avanza due volte? Addirittura? Minchia, complimenti, oh Aspetta, eh, qua è difficile la scelta Vabbè, Goku, avanza di qua te Gohan Radar, mi serve il radar No, levati Ok, è qua su la sfera Basta Maledizione Oh Eh Sì, ok Basta Basta La sfera dovrebbe essere qua su, teoricamente, giusto? Sì, è qua proprio ragazzi, la sfera L'altra è qua su, teoricamente anche Quindi Kaioshin vai a prendere, così ci prendiamo anche i soldi, raga Ci fanno sempre comodo Oh, almeno 500 Meglio, guarda quanti pochi zeni abbiamo, raga E Tensing, te Boh Forse c'è un'altra quale, prendiamo tre in un colpo solo, vi immaginate? No Quella di Gohan e quella vicino Ma abbiamo messo due passi e abbiamo finito Eh, infatti, eccolo qui, lo sapevo io Lo sapevo Allora, già la difficoltà è quello che è In più mi fate Mi fate calare la vita Anche Così tanto Vedete che cos'ho come attacchi? Nulla Ciò La Kameha e la Grab Quindi non è che abbia chissà che Non ho proprio nulla Raga Dai Raga, devo spammare un pochino Maledetto di un Majin Bu Non è che dite fa combo elaborate Olè Il bello almeno è che qua, ragazzi La Kameha si può attivare normalmente Anche senza Senza, diciamo, dover fare tutta questa combo Questa combo la faccio io di routine e basta Sennò si può fare anche senza Allora, vabbè, dai Maledetto Vecca di questa e muori Olè Minchia, che culo, raga Ok, non può fare più passi Quindi con Goan e Kaioshin Ci andiamo a prendere la sfera Intanto con Goku Andiamo da Dende così ci ricarica un po' la vita, dai Ci dà un attacchio in più Anche se non serve a chissà che Allora, con Goan, prendiamoci La sfera Dacci la sfera So che è qui Eccola qui, raga Un'altra quinta sfera On Kaioshin La stessa cosa Vai, prendi la sfera Eccola qui, ragazzi Siamo a sei Ne manca una sola, ragazzi Abbiamo finito Eeeh Il brutto è che Adesso c'è Timajin Bu Chi so dove andrà adesso Di nuovo da Goan Non c'è niente da fare O ce l'ha con Goan Sempre la stessa condizione speciale, ragazzi Oh, mamma mia E in più mi fa Mi sfonda Olè Vai, muori Muori male No, eh Dai, muori male Muori male, Majin Bu Guardate Dai, muori malissimo Olè E richiamoci un po' Laura Giusto per andare sul sicuro, eh Raga, non c'ho combo Facciamogli la grab almeno Olè Ti vedo? Facciamo l'ultima combo? Vai, e muori No, eh Ma come cazzo ha fatto? Cioè, raga Come cazzo? Sta combo è sempre stata fighissima di Majin Bu Cioè, lol Vabbè Lui mi colpisce col cannone Io lo colpisco con Di nuovo Ma che è? Sì, lo so Ho recuperato due sfere Potrei accontentarmi Però se posso prendere anche l'ultima Oddio, ho anche l'evocazione di Sherron No? Sarebbe strafigo Però mi sa che Majin Bu Non me lo permette Perché se non sbaglio La La sfera è dove si trova lui In quel momento quando lo scaraventiamo Via Quindi Poi è bello che ti sto Cannone della vittoria di merda Vabbè Continuiamo così Non c'è un'altra combo da put per put Ecco Almeno ragazzi Provo a fare qualcosa giusto per Differenziarmi, no? E vabbè se la finisce sto Mamma mia quanto l'ho sempre vedo sta combo Non ne avete idea Mamma mia Oh levati No, 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 no Ditemi che mi batti adesso No, per favore Oh, meno male Eh, non fare questi scherzi Bu, eh Per favore Mamma mia Cioè adesso mi dai la cosa Che posto sulla mia Super Saiyan 2 E poi non la posso fare Perché non c'ho il Super Saiyan Quindi è useless Grazie a tutti Grazie a tutti No! Questo non può essere! L'ho ritorno! Questo non può essere, Goku! Questo è il più pericoloso Buu di loro tutti! A questo momento, tu e tutta la terra sarà distruttati! Lasciamo finire le cose con Buu sul planeto dei Kais! Sconfiggi Majin Buu per sempre! Ok! Allora, io prenderei sempre Junior e Vegeta che sono i personaggi con cui ho più abilità, ecco! Andiamo intanto un attimo alle abilità che ci sono! Va bene! Con Vegeta, andiamo! Allora, l'acqua, vedete? Non gli avevo rimosso l'acqua! C'ho lo Spacca Meteora che sarebbe... Ok! Perfetto! KKKK! Allora, con Vegeta andiamo a prendere subito il radar del drago, raga! Che ci serve immediatamente! Quickly! Proprio quickly! Ok! L'ultima sfera è la vicino! Ok! Con Junior andiamo a prenderci i cash! Sono pochini, ma vabbè dai dettagli! Andiamo a distruggere il Sai Baim adesso! Che dobbiamo fare queste? Oggi proprio sono fissati con sta cosa del... Della vita al 50%, oh! Guarda tu che palle sti Sai Baim! Che poi qua ce ne sono di più perché c'è quel segnetto del contatore! Vabbè, sicuramente uno o due al massimo! Non penso ne sono di più, no? Spero almeno! Guarda l'aura del Kaioken che figa! Ehi! Ehi! E muori! Dai ragazzi, diciamo che non sta andando male! Dai, dai! Sto prendendo un po' di confidence! Devo andare a prendere la sfera! Che arriva adesso! Ah, forse Boo! Eh no, se non sbaglio... No, non c'era già sulla mappa! Non lo vedevo! Chi è adesso questo? Cosa c'entra lui? Che c'entra? No, ancora! Sti cacchio di Cellini! Mamma mia, oh! Che due palle, oh, però che siete! Quando ci scommettete che la sfera è vicina a Cell! Quando ci scommettete... E ora io devo battere i sei... Eccolo si potenzia anche l'attacco pure! Perfetto proprio! Ecco, adesso io... Devo battere i sei by, ma allora... Manderei avanti Vegeta subito! Ecco, io andiamo a battere i sei by, ma il Cellino va! No, ecco! Andiamo a battere i sei by, ma il Cellino, dai! Quasi almeno si rende utile Junior! Vai Junior! Renditi super utile! Aspettate che... Brutto sapete cos'è che non ho controllato le abilità di Junior? Voglio vedere quali c'ho... Allora, lo andrà, sappiamo a memoria! La morte, ok! Ah, il run! Ok, perfetto! Abbiamo capito tutto, dai! Vi è qua! Vi carica mi io e faccio l'unione con il, va! Ehi, volevvi? Ovvio, ho fatto quella di lato! Ole! Vado di triangolo oggi E vai Raga, la zecco sempre, non c'è niente da fare Via qua, via qua, dai, eh Via qua E dai, stai fermo Maledetto, sai, vai E se lì, no, vabbè, quelli siete la razza di merda Adesso mori male, vai Maledetto l'unione con Nail Però almeno il vantaggio, ragazzi, è che ci dà le abilità, eh Ma per darmi abilità però che posso usare, oh Ma è stato affrontato Ecco il 6-buy, me lo sapevo Qua, secondo me, ragazzi, affrontare Per affrontare Cell, Freezer Se ci sarà anche Perché sicuramente, dato che ci sarà Cell Sicuramente ci sarà anche Freezer Cell, Freezer, Kid Buu, tutti quanti Majin Buu Grosso, Majin Buu Magro C'è tutto l'esercito, secondo me Ci vorrà, a mio avviso Se hanno Junior e Vegeta Perché, ragazzi Purtroppo Goku ha pochissime abilities E per... ecco l'ultimo Me l'ha azzeccata, maledetta, e muori adesso Almeno l'unico vantaggio che... No, non ci dà una mazza Non ci dà manco un abilities Ok, vai da Junior Anche se Go... Allora Devo controllare dove è la sfera Voglio vedere proprio dov'è Cell, non si muove Buu nemmeno Il Cellino Il Seibain La sfera è là È là vicino, ok Allora con Junior andiamo a prendere Questo potenziatore della difesa Così ce lo troviamo Ecco qua, lo sapevo io che era da Cell Ma la... Vabbè, giustamente non poteva essere da Popo Non poteva essere lì Ovvio E con Goku Beh, è difficile la scelta Manderei Vegeta avanti Così E prendere i Mario E manderei a prenderlo gli Zen Gli Zen Vediamo se c'è qualcosa qui Sì Ho un'abilità Ottimo No Perché mi date ste cose Che non servono Ma dai Non ci muove nessuno Che è ancora? Vuoi vedere che... Eh, lo sapevo Io arrivavo qualcosa Secondo che questo è Freezer Vi scommetto quello che volete Dai, appari Dai, dai Eh, lo sapevo i ragazzi Ormai Li... Li conosco ormai ragazzi Eh, ancora altri Cellini Sì, ma tanto non vi sfiderò tutti Perché mi rompo le palle Mi rompo le balls Dai, andiamo a ammazzare Cellino, va Eh, ovviamente L'energia continua a calare E lui c'ha 3000 barre di vita Ovvio Ecco Iniziamo a spammare alla grande Con ste cose Con stila Ma è meno altro cazzo però, eh Cioè abbiamo già iniziato male Allora se la finisce Allora, guarda sto stronzo, va Allora se la finisce, oh Vabbè, tanto abbiamo la vita Al minimo tutti E lui muore Eh, mamma mia Cell, oh Proprio sei stato pesante, oh Adesso Manderei Goku a combattere contro di te Va, almeno ti indebolisco un po' Ecco, questa per esempio Sarà la lotta più brutta Perché, vabbè, oddio Almeno la vita non cala Il problema è che è Goku Che ha poche abilità Lo sapete Però, sembra che Cell Non contraattacchi molto, eh Noi ci carichiamo l'auro Così attiviamo anche Che il Kaioken, magari Ne approfittiamo Allora, si Aia Cosa? L'avevo fatto Questo m'ammazza adesso Cioè, raga Ma scherziamo Oh, io l'ammazzo, eh Dove pensi di andare, eh Dalla contraattacco Eh, volevi ammazzarmi, eh Volevi, eh Volevi Vieni qua Volevi Mamma mia, ragazzi La Genkidavo Quando io ho visto la Genkidavo Ho detto, beh È finito l'incontro Poi me l'ho dimenticato Che qua non è come Budokai 3 Che qua devi fare lo scontro In quel modo Mentre in Budokai 3 In Budokai Infinite Ward No, in Budokai Infinite Ward Lo stavo chiamando Guarda se la finisce Dai, muori male Ma muori Ma muori malissimo Sell, oh Guarda se la finisce Di spammare Sto cavolo Muori Mamma mia Che spammone L'abbiamo allontanato Anche Ecco Adesso con Vegeta Eh, io non lo attacco No, oddio L'attacco Così me lo levo Dalle scatole Va, sì, sì Ma lo attacco Quello distruggo Eh, adesso con Vegeta Le buschi Ahia Le busco io Miseraga Bello che qua Allora già con 3 Barre di Aura Puoi già Attivare Il Super Sabbiaian De qua Ricaricati Dai, muori male Ma muori malissimo Devi morire malissimo Ah, basta Madonna mia Che spammer Oh Guarda se la smette Madonna mia Vi giuro Lo sto odiando Sell Per quanto lo adori Lo detesto Adesso Oh Eh, muori male Oh Aspetta, quali erano Le altre abilities? Eh, mazzata finale Questa qui Sì, sì Lampo meteoro Sì, sì E lo spacca meteoro Ok Aspetta, io non riesco a farlo Dio sempre Ci ho riuscito al primo tentativo Vabbè, quello Quello Strano così E vai Oh Signore mio Madonna mia Come ti Adesso Sb Oh Ti giuro ragazzi Lo sto odiando Ma non poco Anche se non ti ammazzo Almeno T'ho demolito Un po' Dai Mamma mia Oh Che pesante Che sei stato Fino alla fine Vai Beccati questo Ecco Lo sapevo Dai che muore E che muore Vegetta Dai Ragazzi Ci ho provato Fino alla fine Oh Lo scontro Se scappino Non è che faccia tanta differenza Non è che faccia tanta differenza Allora ci proviamo Dai Dai Giusto Vai Beccati sto Gali Cannon La partita è ancora accesa Ragazzi Vegetta non molla E Vegetta non molla Ragazzi Vegetta non molla Ragazzi Cosa sta succedendo Ma niente Ha mollato No no Forse Vegetta E vince con un goccio di vita Vegetta Sorprende tutti E batte Cell ragazzi Con un goccio Sì cacchio Il lampo finale Sì Sì raga Questo ci voleva Ottimo Freezer No Non lo cago Per niente Anche se Oddio mi darebbe Magari Oh Questo è potenziato Anche l'attacco Quella ci potenzia Cura la difesa Scontatissimo Dai Eh No 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 Si muove Brava Prende l'abilità Ma ho fottuto l'abilità Maledetto Maledetto Vabbè Noi ci freghiamo Intanto La sfera Eh Dammi la sfera Eccola qui L'ultima raga Ne abbiamo tutte sette Adesso E come faccio A evocare Sherron Infatti Intanto mettiamo Il lampo finale La vegeta Ecco Oh Adesso si Raga Dopo lo facciamo Dopo lo usiamo Dopo lo usiamo Non lo facciamo Ma una cosa sconcia Grazie Vegetta E con Goku Lo mandiamo Dall'altra parte Invece raga Andiamo dall'altra parte Di qua Lo mandiamo a Goku E anche Juni Lo mandiamo giù Con Dadende Niente Ok Questa arrivando Questa vuole arrivare Ecco Perfetto Vabbè Non servirà a nulla Tanto Si sono uniti Si è uniti Al Sai Baim Quello Allora Goku Vai da Popo Che cosa What Che giro era Vai Ammazzi Stellino Dai Mamma mia Raga Non vedo l'ora Di evocare Sherron Tipo E credo Che ci saranno Anche qui Tipo La possibilità Di scegliere Sherron E Polunga Cioè Non scegliere Capitarà casualmente Ovviamente Olè Olè Attento Quale era l'altra abilities No Ecco Morti Vabbè Questa è facile Vai col quadrato Ora E vai Maledetto Non è che non era Due tac Muori No eh Vai andiamo Rimaniamo sulle tre Devo prendere a calci Raga Perché è bassissimo Ecco Ti è rimasta Una tac Vabbè Comunque Vai Caricati Dacci una barra in più Ok Con Vegeta Ammazziamo Sto sellino Così abbiamo la possibilità Di provare il lampo finale Raga Lo volevo provare Inizialmente contro Majin Buu Però Vabbè Ho detto Vabbè Lasciamo stare Non lo faccio adesso Perché vorrei Trasformare In Super Saiyan Capite No Dai Maledetto Vabbè Dai Muori male Ma guarda Se muore Oh Oh No mi ha fatto usare Il lampo finale Il maledetto Che ci dai Perché mi dai Vabbè Le abilità degli altri Non possono tornare utili Per dopo Capito Va Prisa Non si muove Buu neanche Boh Vabbè Comunque c'è un casino Di barre Buu eh Chissà poi Quale Quale sarà Invece Muove Prima Vegeta Vediamo se ci fa andare Popo da Buu lui Questo Popo Sì 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 raga Ci ha fatto andare da Buu Ecco Tu prenditi Il potenziatore Dalla difesa Che non l'hai preso Sei scemo Vabbè Vai Vai da Vegeta Tu Freezer Non si muove E buu va da Vegeta Ecco Ne approfitto in questa battaglia Dato che Stiamo combattendo Contro Kid Buu Per salutare Il mio amico Nonché collega Alessandro Lancilli Dato che Buu Diciamo i ma... Il Buu Kid Buu è proprio Il suo personaggio preferito Ecco Quindi ne approfitto Per salutarla E ringraziare Tutto il suo supporto E per credere Costantemente in me Vorrei fargli Tanti lampi finali Eh Probabilmente Kid Buu Non ce lo farà fare Vai Vai No 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 Cazzo Daga Devo Devo ammazzarlo Regolare A questo Che cazzo Sta facendo Cazzo Mi accalare la barra Di Laura Maledetto Guarda sto Il maledetto È veloce Maledetto Cioè raga Neanche il lampo finale Gli ho potuto fare Maledetto Sto 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 Buu di merda No E dai Contro sto cazzo Di Junior Raga Devo assolutamente Vincere Contro Almeno un incontro Contro Contro Buu Almeno Per indebolizia Dato gli Quelle tacche Di aura Di vita Che Se no Non finisce più Non si finisce Varemente più Olè Facciamogli Run Furioso Dai Olè Se riuscissi a battere Buu così facilmente Sarebbe il massimo Speriamo almeno Di batterlo Velocemente Buu O almeno Di indebolirlo Un bel po' Dai Non andare da Vegeta Adesso Per favore Che debole Non va Neanche da Dai devo fare Un giro lunghissimo Per andare Da cosa Maledetto Ma ammazza Vegeta Sicuro Perché non Non penso Di riuscire a contrastarlo Si è potenziato L'attacco Questo maledetto Cavolo Goku Muoviti Vai Vai a salvare Vegeta Veniamo a quel Potenziatore Lì Anche Guardate Per andare Sul sicuro Raga E maledetto Vai indietro Io me ne vado Indietro Raga Per salvare Vegeta Vai Junior Oh Madosca Vai Eh raga Qua purtroppo È così La storia Non si muove Bu Meno male Scusate se scappo Raga Ma Che bisogna fare Se è fatto forza così Prendi sto panino Cosa fa sto panino Adesso Cosa fa Che cavolo fa Ah mi dai un altro passo Ottimo Vai Teletrasportati Vicino a Bu Dai Dove Dove Cazzo Me l'ha mandato Voglio vedere Dove mi manda Adesso Junior Dove mi manda Adesso Questo Dove Cazzo Me l'ha Mandato Eh Qua è difficile La scelta Se vado qua Mi colpisce Vabbè Allora torno Raga Torno indietro Addio Ciao Bu Pensiamo a salvaguardarci Perché altenza E' un cavolo amare Quindi abbiamo capito Che dobbiamo prendere Quella strada lì Allora Goku Dobbiamo andare di là Vai Goku E Junior Vai di qua Avanzate tutti Raga Avanzate tutti Goku E Junior Sono quelli Diciamo che possono Aiutare di più Perché c'hanno anche più barre Quindi possono esistere di più Ma riconvengendo Diamo la botta finale Proprio non si muove Di un millimetro Ah quindi quel panino Ogni volta possiamo muorci due volte Ottima cosa Ovviamente è ottima Meglio di così Andiamo a sfidare Aspettate Vediamo se posso dargli qualche abilità Cosa fa là Ok A guarigione Vabbè Non fa un cacchio In poche parole Non ci abbiamo abilità Andiamo a battere Boo Spero vivamente Di fare qualcosa In più rispetto a Vegeta Con Goku Anche se con quelle abilità Non è che posso fare Chissà che Meno male che non ci ha fatto La sfere E vanescente L'altra Quella grande Vabbè ma C'ha delle combo devastanti Questo Con un colpo ti ammazza E basta Oh E' rotto il cazzo E' rotto il cavolo Oh Ebbè Vaffanculo E' però Sta spammando Da far schifo Dai Almeno lo indeboliamo un po' Vabbè Vaffanculo Io ci provo Almeno un pochino L'ho indebolito Eh Che posso fare Eh raga E' un animale E' un animale Che ci posso fare io E' proprio un animale Vai di qua Che cavolo ci possiamo fare Vai avanza anche tu Vegeta Che possiamo fare Che è un animale questo Non si può fare niente Oh cacchio Eh vabbè Ciao Darn it Even though We're doing the same thing That monster Is not losing any strength Eh 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 No almeno Rimanizziamo tutti Due con l'energia verde Cacchio almeno Almeno mi sembra Più debole Mi sa eh Cavolo Dopo banco per il cazzo È debole Eh Madonna Porca miseria Non ho bestemmiato Porca miseria Dai levati Ma dai Ma come fa a pararsi sempre Ma che cazzo Intelligenza artificiale L'hanno fatto nel 2005 Eh vabbè C'ho solo il Kaioken raga Che posso farci Vabbè Fanculizzati eh Fanculizzati alla grande Beccati questa Ah eh Vabbè Maglia maledetto Beccati questa Olè Aia 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 Muovi Muori Dai 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 Ragazzi Eh maledetto Guardate quel maledetto Guardate che combo di merda Che fa Eh ho sbagliato io a premere Cerchio Cazzo Perché faccio ste gaffe Maledizione Ecco se mi ammazza Goku Vado in game over Proprio Quindi conviene Andarsene con Goku Eh però come cazzo faccio Non si può andar via Questo qua mi ammazza subito Questo mi ammazza Regolare Eh potenziati ancora di più Siccome non ce n'è abbastanza Eh raga Ah no posso fare due passi Meno male Allora me ne Me ne vado via Eh Junior Avanza te almeno Meno male che ho quel potenziatore di Goku Meno male Eh No Perché Vegeta l'ho fatto andare di là Come un cretino Maledizione No ma intercettato Cioè mamma mia raga Almeno qua c'è un'ultima barra di vita Spero di non fare troppi fe Eh vabbè Vaffanculo Vaffanculo Beccati questo Cioè almeno un danno Ma lo fai fare Giusto per dire Ti ho ammazzato eh Aspetta almeno Ci ho provato Oh almeno Almeno una volta Oh almeno una volta Che succede Eh con Goku Raga io me ne vado via Se muore Goku Finisce in game over Me lo ricordo sta cosa Eh avanziamo Raga dobbiamo curarci Assolutamente Dobbiamo curarci E mandare Junior Perché tanto anche se muore lui O di secondaria Non succede nulla Ecco Non si muovono raga E io sinceramente Faccio lo stesso Anzi mando Goku avanti In modo che iniziamo già A andare verso Dende E a curarsi Il problema Sapete qual è Ecco Junior lo mando di qua E mandiamo da Majin Bu E Vegeta Lo lasciamo Lo andiamo a curare Prima con Dende Come Goku Capite come Questo è il mio piano Ragazzi Li curiamo adesso Facciamo quella scappatoia Meno ci proviamo Appena vede il nemico là Attacca lui Speriamo E la madò Ma quante cavolo di barre di aura Di vita c'ha Mamma mia È impossibile Mamma mia Mamma mia Ce n'ha tantissime Poi inizio a spammare così Gioca in difesa Cosa che non faccio mai Vabbè 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 Ma dai C'è Ti colpisce anche un chilometro C'è già Beccati questo Almeno Sì Vuoi qualcos'altro Vuoi un caffè Non lo so Ma hai rotto il cazzo Però eh C'è mamma mia Raga È un qualcosa di assurdo Sto Magibu oggi Non so Oggi lo vado Indemoniato Vabbè E continuiamo a spammare Un pochino Perché non carichi Maledetto Non caricava Cioè che poi Non lo so È scemo Non lo so Ecco Ecco Se vado in quel modo Non mi può attaccare Non mi può attaccare Perché può fare Ecco Andiamo da dende Vai Ricarica Ah Meno male Quanto ci dà Una sola Ce n'ha data Che schifo Junior Te vai in diagonale così Vai via Anzi Dio No Forse Ecco Vediamo la stessa cosa di Goku Dobbiamo fare adesso Solo che tu c'è il lampo finale Quindi c'è un vantaggio in più Rispetto a Goku E li possiamo fare il culo In quel modo No dai Basta Che fa Ancora Anche sapete cosa vorrei fare Vorrei fare un altro giro di Goku Per ricaricarlo da dende Dato che abbiamo l'opportunità No? Che dite? Allora Facciamo così Faccio vedere cosa intendo Lo mandiamo di nuovo da Vegeta E poi lo rimandiamo da dende Ecco qui Un'altra barra fa sempre bene Raga Vediamo se c'è qualcosa qui Magari qualche abilità Una mazza Ottimo Vegeta Vai a curarti da dende Ora Raga Questa parte sarà un po' più lunga Però per Bu Dobbiamo fare così Purtroppo Dobbiamo fare purtroppo così Allora Facciamo un'ultima volta Almeno ci carichiamo al massimo Va Così possiamo andare proprio ad affrontarlo Tante volte Capite raga? Tanto abbiamo quella via d'uscita Ecco Lo mandiamo qui a Junior Proviamo a farlo combattere contro Bu Tanto Chi se ne frega Vai Di nuovo la Vegeta Così magari poi facciamo un altro giro Sicuramente lui Eh lo sa bene Stavo per colpirlo con la Genkidama Maledetto Vabbè Ma gira male Sto cazzo di analogico Vai via Cioè raga Sono veramente nervoso Non si senta Proviamo con Vegeta poi raga Non si avvicinerà Penso Bu No infatti Non si è avvicinato Allora Mi hai rotto il cazzo però Analogico eh Ti giuro mi hai rotto il cazzo Andiamo Goku là E lo facciamo ricaricare anche va Facciamo ricaricare raga Facciamo ricaricare anche Junior Per sicuro Mi hai rotto il cazzo veramente Ti giuro eh Sto premendo in giro Perché mi va in diagonale 20 turni comunque Mamma mia Con Vegeta ci Ci proviamo raga Ci proviamo con Vegeta Vediamo se riusciamo a fare qualcosa Non conviene neanche Attivare il Super Saiyan Gli vado di detenti Di Final Flash e basta Mamma mia raga Mi sta facendo sclerare E dir poco Vabbè Vorrei fare Niente Non mi fa fare il Final Flash Maledetto Eh vabbè Vaffanculo però eh Madonna santa però eh Vabbè che io vado solo Cioè Sono solo una modalità di attacco io Mamma mia Vai Vai Vabbè Vabbè vai 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 Vaffanculo Madonna santa Oh Mamma mia Sto Buu Maledetto Mamma mia Che palle Oh che sei Scusate Sto sclerando così Raga Ma veramente Fa girare le scatole Buu eh Fa girare veramente Le scatoline Io provo ad andare all'attacco con Vegeta adesso Spero di non farmelo eliminare Spero di fargli il Final Flash Oh Non è possibile raga Ma ve ne rendete conto Vabbè Io mi sto in difesa E non mi La difesa non funziona So che devo tenere la premuta Infatti la sto tenendo premuta Però questo non è normale Che con un attacco mi levi 300.000 barre di vita Oh Non lo so Buu vuoi anche una fetta di culo Mi hai rotto il cazzo Vabbè dai Sì Due barre di vita in un mezzo secondo Oh Cioè raga Veramente stiamo a fare Mamma mia Mi sta ammazzando sto Buu Dove andare Dove avanzare Allora con Goku Avanziamo e poi ci curiamo anche Vai giù e curati Goku Raga l'abbiamo quasi battuto Manca poco eh Allora con Vegeta avanziamo in diagonale Così non ci tocca Non ci tocca più Mamma mia raga Ci ha demolito Demolito è veramente dir poco Eh facciamo di nuovo il trucchetto Trucchetto non trucchetto Ricarichiamoci la vita con Dende E poi ritorniamo raga Andiamo da Da Majin Buu Così avanziamo anche con Junior E lo furiamo anche raga E con Vegeta Ce ne torniamo indietro raga Che ha fatto veramente il suo dovere oggi So che questa parte era un po' più lunga Ragazzi mi scuso però Non mi ha sentito di cancellare le parti Cioè il gameplay ecco Quindi vediamo un attino con Goku Speriamo di riuscire a vincere Di non fare troppi fail ecco Vai Goku Facciamogli il culabu Facciamogli capire chi comanda Ok Adesso tu Junior vai Che ti devi ricaricare un po' Almeno una barra te la devi avere in più Vegeta vai Ok Ci siamo Non penso di lo scontro finale Perché penso poi Ci saranno altri due Anche l'altro Junior l'abbiamo indebolito un bel po' Ma non è bastato Si servirà molto Molto di più per batterlo Goku Tu vai a ricaricarti Adesso qua il problema sorge Perché magari con Vegeta Tu scappa da bu Prima che ti ammazzi Junior Con Vegeta andrei a ricaricarlo Prima Vai Andiamo Andiamo per sicurezza Va Ok Raga purtroppo dobbiamo far così ogni volta Scusatemi eh Però per andare sul sicuro Capitemi Con Kid Bu Veramente non si scherza Non me l'aspettavo fosse così devastante Con Vegeta diciamo che potrebbe bastare anche La terza barra ecco solo Mamma mia Chissà se anche voi avete trovato tutte queste difficoltà Fatemelo sapere raga Fatemelo sapere eh Attendo i vostri responsi Ok Goku ritorna a Potenziali A ricaricarti Lo porterei al massimo alla quinta attacca anche magari eh Giusto per andare sul sicuro Vediamo Con Junior avanziamo Avanziamo E con Vegeta avanziamo Andiamo da Majin Bu Cerchiamo di fargli fare qualche bel final flash Dai Sperando che Vegeta il principe ci porti alla vittoria Perché un bel po' con Junior l'ha indebolito eh Quindi speriamo bene dai Cioè raga veramente adesso Manca veramente poco dai Ho battuto Speriamo che sia solo questa la battaglia da fare con Bu Mamma mia ma devastato Olè Big Bang Attacca Ottimo Finalmente è finita Abbiamo finito Ci hai messo un bel po' Laura di Majin Bu No raga abbiamo finito già Majin Bu Cioè è finita la storia Ma che cazzo Eh sì in effetti sì adesso abbiamo No ce le abbiamo Ma ce le abbiamo le sfere oh Cos'è Pianeta del Di Recaio Vabbè il pianeta di Kaio Shin ecco Un bel po' You who have gathered the seven Dragon Balls I shall grant you any one thing from among these Very well, I understand Farewell Raga, abbiamo finito la storia Mamma mia, cortissima Comunque, è stata l'ultima parte veramente interessante E che dirvi, abbiamo sbloccato la loro tour del Goku Che vabbè, l'avete letto Detto questo ragazzuoli Spero che quest'ultima parte vi sia piaciuta Vi dovete lasciare un bel like Condividere l'episodio per supportare questa serie appena finita Iscrivetevi al canale se siete ancora iscritti E attivare la campanella in modo da ricevere tutte le notifiche del canale G2M Instante Gaming è sempre in descrizione E trovo questo appuntamento al prossimo video Ci vediamo guys, ciao!